Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati, martedì con l'analisi politico-economica, un paio di notizie prima di iniziare a presentare il nostro ospite del martedì, è giornata sua qui al Vaso di Pandora, la manovra economica che cambia ancora, il governo Meloni probabilmente voleva fare qualche piccola battaglia e magari forse più simbolica che altro, ma è rientrato subito nei ranghi imposti dall'Unione Europea e lo vedremo fra poco. Un dato poco prima di fare questa intervista che proviene dall'Istat, rallenta l'occupazione nel terzo trimestre meno 0,1%, in 13 anni salari netti calati del 10%, ma questo poi lo contestualizzeremo nel corso della nostra intervista assieme a Gilberto Trombetta. Gilberto, benvenuto, ciao. Ben trovato Carlo e ben trovati i nostri spettatori, ovviamente. Allora, bollette, partiamo con le bollette, perché la ricetta del Ministero dell'Economia e Finanza sembrerebbe quasi accettare, per non dire assecondare addirittura, la recensione. Senti, cosa ha pensato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti? Ha pensato che sta eseguendo il pilota automatico, la manovra era già stata scritta dal precedente governo sotto dettatura dell'Unione Europea. D'altronde tutti gli impegni che abbiamo preso nei confronti dell'Unione Europea, passati e presenti, avevano proprio lo scopo di aumentare il controllo da parte degli organi sovranazionali e così è. Si è fatta qualche piccola battaglia, prevalentemente a parole nonnefatti e di fatto questa è una manovra che avrebbe potuto tranquillamente licenziare, cioè realizzare il governo Draghi e non ce ne saremmo accorti. Sì, cosa prevede l'idea di Giorgetti su questo? Prevede un tetto, mi sembra, sui consumi per mantenere i prezzi diciamo calmierati, ma oltre questi stiamo parlando del 70% del consumo energetico sia di gas che di elettricità per le famiglie e l'80% delle aziende, oltre le quali si va a un prezzo a livello di mercato, quindi da già per scontato nei consumi e nella produzione un meno 20-30% rispetto all'anno scorso in pratica. Ma che è quello che poi sta succedendo, lo abbiamo raccontato diverse volte noi Carlo, perché con questi prezzi così alti, particolarmente alti li abbiamo avuti fino a qualche mese fa, ma anche adesso che sembrano diminuiti di molto rispetto agli ultimi mesi, se si vanno a vedere i prezzi del 2021, del 2020 e del 2019, quindi anche prima delle restrizioni del Covid che hanno generato delle fluttuazioni particolari, stavamo tutti chiusi dentro casa, molte attività erano sospese, quindi diciamo che i consumi 2020-2021 non vanno presi come un riferimento perfetto, diverso il 2019, beh diciamo rispetto a quel periodo, l'abbiamo detto diverse volte, i prezzi sono aumentati più di 10 volte, più di 10 volte, cioè vuol dire che siamo intorno al 1000% di aumenti, sia per quanto riguarda il gas e l'elettricità e quindi che cosa hanno fatto Carlo? Sia le aziende sia le famiglie hanno cominciato a consumare di meno, per le aziende vuol dire a produrre di meno o a produrre di meno o a proprio chiudere i battenti, se non ce la facendo a stare dietro al caro energia, le famiglie ovviamente se tu hai quelle entrate mensili derivanti dallo stipendio, una famiglia che non è uno Stato e non può emettere moneta e non può attassare i vicini di casa, riduce i consumi, ma che succede se sia le aziende sia i cittadini riducono i consumi? Che i prezzi dell'energia si abbassano perché crolla la domanda e se crolla la domanda diminuisce il prezzo, noi abbiamo un problema di inflazione generato da una strozzatura dell'offerta che c'eravamo autoindotti come abbiamo sempre raccontato, in parte perché abbiamo deciso per far contenti gli Stati Uniti di sanzionare il nostro maggiore fornitore di gas, petrolio e carbone, quindi ti crea una strozzatura dell'offerta che fa schizzare i prezzi, dall'altro per le politiche che avevamo deciso il mercato ETS, cioè le quote per le emissioni, i permessi per l'emissione della CO2, anche di questo poi ne parleremo che ci sono notizie interessanti, che a loro volta hanno già fatto aumentare i prezzi dell'energia, non abbiamo colmato questo problema di offerta, ma abbiamo ammazzato la domanda di modo che andasse incontro alla diminuzione dell'offerta, facendo così i prezzi sono tornati a scendere, ma a che costo Carlo? A costo della recessione. A costo della recessione, tu tra l'altro che sei notoriamente l'uomo dei numeri, dei dati, hai alcuni dati da riportare sulla bilanza dei pagamenti, sull'import? Assolutamente, riguarda proprio il problema della crisi energetica che ci siamo autoindotti con i motivi che abbiamo raccontato poco fa. Noi da quando stiamo nell'Unione Europea e nell'Eurozona puntiamo tutto sull'export e abbiamo visto che cosa è successo quando l'export non funziona, lo abbiamo visto con Mario Monti, come si fa in un regime di cambi fissi a far migliorare l'export? Ammazzi la domanda interna, aumenti la disoccupazione e diminuisci i salari. In quel modo le tue merci vendono di più all'estero perché costano di meno perché fa deflazione salariale e riporti in alto l'export e quindi la bilancia dei pagamenti che ricordiamolo è il saldo tra importazioni ed esportazioni. Che cosa è successo però con la crisi energetica che ci siamo autoindotti? Che negli ultimi 12 mesi, cioè tra novembre 2021 e ottobre 2022, il saldo della bilancia commerciale dell'Italia è andato in deficit per quasi 12 miliardi di Euro, lo 0,6% del PIL, ma gli stessi 12 mesi dell'anno precedente, quindi novembre 2020, ottobre 2021, noi abbiamo un surplus di quasi 70 miliardi di Euro, 67,9 in realtà. Ovviamente questo peggioramento dei conti con l'estero è dovuto a che cosa? Al disavanzo energetico, cioè a parità di quantità di energia noi abbiamo speso molto di più per importare materie prime energetiche, proprio perché ci siamo creati un problema di offerte e quindi cosa è successo? Che nel 2022 che sta per finire, l'import di energia di tutta l'Italia supererà per la prima volta Carlo i 140 miliardi di Euro, tenete conto che è più del doppio di quello che abbiamo pagato lo scorso anno e 110 miliardi di Euro in più rispetto al 2020. Questo ci ha mandato i conti con l'estero molto male e per quanto riguarda il caro energia, e qua chiudo questo discorso, abbiamo citato del mercato ETS, cioè i permessi per le quote di emissione della CO2, sono aumentati di circa 10 volte i prezzi negli ultimi 10 anni per colpa delle politiche scelte dall'Unione Europea, cioè il taglio della concessione di questi permessi che ne ha fatto aumentare i prezzi, ebbene come se non bastasse, l'Unione Europea ha deciso un ulteriore di taglio del 62% di questi permessi entro il 2030, vuol dire aggiungere un altro problema dal lato dell'offerta, proprio su quello energetico che impatta di più sui prezzi, quindi sostanzialmente Carlo questo vuol dire mettere fuori mercato, se non tutta l'economia europea, sicuramente quello dei più grandi paesi manifatturieri, cioè Germania e Italia. Germania è un paese trainanti a livello di produzione industriale, veniamo a uno dei temi della manovra economica, il POS se ne parla tanto in questi giorni, mi sembra un argomento un po' così mediatico, giusto per tenere occupata l'attenzione degli italiani, tanto rumore per nulla, secondo te Gilberto, comunque salta il tetto sui pagamenti digitali perché è stato soppresso, sembra che sia stato soppresso il limite di 60 euro, era una piccola battaglia del governo Meloni più simbolica che altro, per far vedere, prego dimmi tu, dici tu. Più simbolica che altro perché la vera battaglia e tra l'altro quello in teoria non ce lo dovrebbe poter levare nessuno, dico in teoria perché visto quello che abbiamo visto negli ultimi 30 anni e ancora di più negli ultimi tre non si può mai sapere quali siano le derive distopiche che possono raggiungere i nostri governi, in teoria l'unica battaglia che vale la pena fare è il diritto di pagare in contanti, il contante è l'unico mezzo che non può essere mai rifiutato per dei pagamenti, è un diritto anche perché ripeto i soldi guadagnati sono tassati a monte, se così non fosse vuol dire che c'è un problema a monte e non lo risorvi certo impedendo il pagamento con i contanti, mentre quello di pagare con modalità di pagamento elettroniche è un'opportunità che si può dare in più ai cittadini, non è un diritto sicuramente e ricordiamoci sempre che comunque a differenza del pagamento in contante la stragrande maggioranza delle volte il pagamento elettronico favorisce i circuiti bancari perché ci sono i costi di commissione, oltre ad aprire a dei grandissimi rischi per il singolo cittadino perché se tutte le nostre attività, compresi i pagamenti, sono relegate all'ambito elettronico possiamo essere tagliati fuori dalla nostra vita di cittadini e dai nostri diritti con un semplice click, quando hai a che fare per esempio con i contanti questo è molto più difficile. Sì, c'era un post molto molto bello, molto paradigmatico direi in questi giorni che circolava dove dicevano che il caffè si paga con il POS, ormai si paga tutto con il POS, però le mazzette in Qatar io lo chiamerei più Eurogate, quelle chiaramente tutto con tante, tutte valigioni con banconote di taglia grossa, giustamente. Verissimo Carlo, anche se poi questo va ricordato che il grosso oggi dell'evasione, dell'illusione e anche della corruzione viaggia sicuramente su moneta elettronica e non su cartaceo. Ecco, questa è una precisazione estremamente importante. La Guard fa forti pressioni sull'Italia per la ratifica del MES, il Parlamento per ora resiste ma Calenda in questi giorni per perorarne invece lui la ratifica, ha affermato che, cito testualmente, il Premier dovrebbe venire in Parlamento a spiegare perché una persona deve aspettare 23 mesi per sapere se ha un tumore solo per le folli questioni di principio sul MES. Ha detto l'ora delle cavolate è finita. Gilberto, a te. Diciamo che può essere legittima la richiesta di Calenda di chiedere una risposta alla Meloni in questo caso, però visto che lui con Renzi è alleato e visto che Renzi è stato uno di quelli che ha tagliato di più il finanziamento al sistema sanitario nazionale, direi che una prima risposta a Calenda gliela può dare sicuramente il suo compare Renzi che gli spiegherà che tagliando la sanità aumentano le liste di attesa e quindi se noi negli ultimi dieci anni abbiamo tagliato il numero di ospedali, il numero di posti letto, il numero di medici, il numero di infermieri, pensa un po' caro Carlo Calenda, aumentano le liste di attesa e questo non perché non abbiamo utilizzato il MES o il MES sanitario come gli piace chiamarlo a lui, ma perché abbiamo tagliato la sanità e quindi il motivo delle liste di attesa non è perché non abbiamo utilizzato il MES che tra l'altro darebbe una cifra risibile a condizioni gravissime rispetto a quanto è stato tolto negli ultimi anni alla sanità, quasi 40 miliardi di Euro, ma al di là delle cifre in soldi Carlo è impressionante quello che abbiamo detto, il taglio di numero di ospedali, di posti letto e di personale sanitario e tra l'altro vale la pena ricordare che la ratifica della riforma del MES apre veramente uno scenario catastrofico per l'Italia perché aprirebbe le porte a una ristrutturazione del debito di alcuni paesi, ma per chi ha avuto la pazienza di leggere i documenti e le carte europee, cosa che evidentemente Calenda non ha voluto fare, è evidente che la riforma del MES parli tra le righe proprio del caso Italia, dove i nostri partner europei si illudono di poter far fallire in maniera controllata un paese come l'Italia per ridurne il debito pubblico, per ristrutturarlo, ma questo creerebbe dei problemi Carlo imbarazzanti, ne abbiamo parlati spesso diversi anni fa quando si è cominciato a parlare della riforma del MES, molto sinteticamente senza riprendere le fila di tutto il discorso, già per il semplice fatto che tu ratifichi un documento che prevede la ristrutturazione, il default del debito italiano, in quel caso si tratterebbe delle classiche profezie autoavveranti, nel senso che gli investitori privati comincerebbero a comportarsi da subito come se il debito italiano dovesse fallire, aumentando una cosa che già sta succedendo adesso, perché adesso gli investitori stranieri si stanno liberando dei titoli di Stato italiano, tieni conto che solo negli ultimi 14 mesi hanno venduto quasi 130 miliardi di Euro di titoli italiani, questo perché? Perché la BCE aveva annunciato che avrebbe chiuso i rubinetti, cioè smesso di comprare titoli di Stato, già dall'annuncio e poi da quando lo ha cominciato a fare ha mandato un segnale chiarissimo agli investitori, cioè i cosiddetti mercati, perché se non è più il prestatore di ultima istanza, allora quei titoli diventano molto facilmente cedibili, perché non c'è fiducia se non c'è una banca centrale dietro che ti garantisce che li riacquisisce, tutto questo in un contesto in cui l'Italia nei prossimi due anni, cioè 24 mesi, dovrà rinnovare quasi 500 miliardi di Euro di titoli di Stato, cioè di debito pubblico in scadenza. Quindi voglio dire, la riforma del MES sarebbe veramente la pietra trombale su questo Paese, perché ci metterebbe per la prima volta nella nostra storia a rischio di insolvenza, cioè di fallire, di fare default sul debito. Poi ricorderei ai nostri amici partenari europei che solo dei pazzi scriteriati come loro possono pensare di far fallire in maniera controllata l'Italia, che controllata vuol dire che non coinvolge le economie degli altri Paesi. È ovvio che se loro facessero fallire l'Italia obbligandola a ristrutturare il debito, anche gli altri Paesi, passami la metafora, farebbero un botto che la metà basta, ovviamente. Farebbero un botto, dici, veramente forte. Senti, per chiudere il cerchio su questa pressione anche di calenda per la ratifica del MES, invece di ratificare il MES, sarebbe molto più interessante votare uno scostamento di bilancio in ambito medico-sanitario, no? Assolutamente, ovvio che qua ti scontri appunto. Ma qui ci vuole un governo che abbia gli attributi, ovviamente. Potrebbero, sì, però gli attributi non vuol dire nel senso, se la BCE, come abbiamo detto, ha chiuso i rubinetti, tu oggi ti dovresti rivolgere ai mercati in un contesto tra l'altro in cui sono aumentati sempre per colpa della BCE, ricordiamo, i tassi di interesse. Vuol dire che oggi rinnovare o finanziare il debito dell'Italia costerebbe di più. Ricordiamo che quello che ha fatto esplodere il debito pubblico italiano, il rapporto debito-PIL, non è la spesa pubblica fuori controllo, visto che noi negli ultimi 30 anni abbiamo fatto 27 anni di avanzi primari, cioè di taglio della spesa pubblica, cioè lo Stato al netto degli interessi sul debito ha speso meno di quanto incassava, quasi 1000 miliardi di Euro, Carlo, è dal 92 oggi di avanzi primari, però se aumentano gli interessi sul debito è ovvio che poi tu aumenti proprio il debito perché non ce la fai, a meno che dovresti fare di tutto un saldo primario, cioè tu dovresti tagliare la spesa pubblica, compresi gli interessi passivi sul debito che sono di 50-60 miliardi di Euro l'anno, ma il tasso di interesse a cui ti finanzi viene deciso dalla Banca Centrale. È un cane che si morde la coda, Carlo, qua i problemi li crea la BCE e poi ci detta delle soluzioni che peggiorano i problemi che la stessa BCE ha contribuito a creare, così non se ne esce, è ovvio che noi avremo bisogno di uno scostamento di bilancio maggiore, ma la BCE non te lo fa fare, i mercati se te lo finanziano ti chiedono un tasso di interesse altissimo, qua servirebbe una ricucitura sociale che convincesse in questo contesto gli italiani che hanno tra il più alto risparmio privato al mondo a dare fiducia allo Stato, anzi al governo che al momento guida lo Stato, comprando i titoli di Stato italiano a un tasso di interesse tutto sommato basso, quantomeno di interesse reale pari allo zero negativo e dare fiducia a questo governo, finanziando di fatto loro la spesa dello Stato. È ovvio che non è chiedibile in questo contesto, è ovvio che non è facile riottenere una propria banca centrale nel giro di poco tempo e senza conseguenze, a maggior ragione non si capisce perché anche questo governo come il precedente stia mettendo il bastone tra le ruote alla circolazione della moneta fiscale, cioè alla cessione dei crediti fiscali, cioè al bonus del 110% che nonostante tutti i limiti che ha mostrato aveva decisamente dei pregi, è una delle poche armi che avremmo potuto usare all'interno dell'Unione Europea e dell'Eurozona e soprattutto sarebbe potuto essere applicato a ben altri ambiti che non solo quello edilizio, compreso quello sanitario. Compreso quello sanitario, parlavi appunto della BCE, in qualche modo hai un po' evocato la domanda che volevo farti adesso, la BCE che come hai detto crea delle dinamiche negative, crea i problemi e dopo li vuole risolvere creando altri problemi, più che si dice un circolo vizioso, qui in questo caso qua mi sembra un circolo tragico. Ma sì, ripeto, se si vanno a vedere i tassi di interesse è impressionante, soprattutto se si va a vedere una cosa che si chiama effetto palla di neve, che in economia che cosa indica? Cioè il rapporto tra il tasso di finanziamento del debito, cioè il tasso di interesse e la crescita del PIL, se il tasso di finanziamento del debito è più alto della crescita del PIL, le cose non funzionano, anche se ti mettessi a fare come abbiamo fatto noi, tagli della spesa pubblica, cioè avanzi primari per tre decenni, perché se il tasso di finanziamento del debito è superiore alla crescita del PIL, che è la vera cosa importante, per valutare la sostenibilità del debito conta quanto cresci, non il livello del debito in sé. Questo al netto di qualsiasi discorso sulla sovranità monetaria e sull'avere una propria banca centrale che ti garantisce di poter sempre onorare qualsiasi debito, ma se proprio uno volesse vedere un parametro che è importante, è la crescita del PIL e se tu, banca centrale che ti fingi indipendente come la BCE, mi fai finanziare a un tasso di interesse che è maggiore al tasso di crescita del PIL e il mio PIL non cresce proprio perché io sto nell'Eurozona e nell'Unione Europea che mi impedisce di fare gli investimenti pubblici che sono quelli che fanno crescere il PIL, è ovvio che tu non solo mi obblighi a fare austerità, ma nel contempo mi fai anche aumentare il debito pubblico e il rapporto debito-PIL perché mi fai pagare dei tassi di interesse degni del peggiore degli usurai, cioè dei mafiosi. Senti, giusto per chiudere questo cerchio che riguarda la BCE, la BCE appunto sta per ridurre, questa è una notizia molto molto importante anche questa, sta per ridurre il quantitative easing di 15 miliardi, la riduzione a partire dal mese di marzo, il marzo prossimo, attraverso il mancato rinvestimento di titoli di Stato in scadenza. E quello un po' l'avevamo accennato, l'Italia abbiamo detto che deve rinnovare 500 miliardi Carlo di titoli di Stato nei prossimi 24 mesi con una media di circa 250 miliardi di euro l'anno, cioè per tutto il 2023 e per tutto il 2024. La BCE i rubinetti in parte già li ha chiusi, quelle poche gocce che continuano ad uscire sta chiudendo anche quelle, mandando un segnale inequivocabile ai cosiddetti mercati, cioè agli investitori privati esteri, che si stanno liberando dei titoli di Stato italiano e davanti a questa ulteriore stretta da parte della BCE non potrà che aumentare questo processo, abbiamo detto che si sono liberati in 14 mesi già di quasi 130 miliardi di euro, questo peggiorerà, a questo dato bisogna pure aggiungere la fuga di capitali che viene misurata con il saldo target 2 interno all'Eurozona che registra i flussi di denaro in entrata e in uscita tra le varie banche centrali nazionali, cioè tra i vari paesi dell'Eurozona, l'Italia ha già detto ciao a più di 700 miliardi di euro che se ne sono andate dall'Italia, di cui 200 miliardi solo nell'ultimo periodo. Questo davanti, l'abbiamo pure già detto, una bilancia dei pagamenti che è tornata negativa per la prima volta dopo l'epoca Monti e anche là i conti con l'estero non promettono nulla di buono, insomma Carlo sembra veramente una tempesta perfetta e tra l'altro è l'ennesima crisi che ci troviamo ad affrontare senza soluzioni di continuità da quando siamo entrati nell'Unione Europea e nell'Eurozona. Sì, con la tempesta perfetta, volevo vedere se si poteva chiudere con una nota positiva, non lo so chiedo il tuo aiuto, ma d'altra parte bisogna prendere, come dicono anche i maestri di realismo, bisogna prendere atto della realtà delle cose, stare con quello che c'è e questa è la situazione. La nota positiva, caro Carlo, hai ragione perché nonostante tutti i problemi noi continuiamo a rimanere la seconda forza manifatturiera d'Europa, siamo uno dei paesi con maggiori competenze e capacità, lo vediamo dai nostri giovani che obbligiamo ad andare a lavorare all'estero, che in linea di massima fanno carriera o comunque vadano e se li litigano per varie tipologie di lavoro, non solo quelle a bassa qualificazione, ma anche quelle molto qualificate, siamo ancora il paese con il più alto risparmio privato al mondo, sicuramente non distribuito in maniera equa, ma abbiamo ancora le spalle molto larghe, è ovvio che è quella a cui puntano e ricordiamo sempre che siamo il paese in cui 7 italiani su 10 sono proprietari della prima casa in cui vivono e anche questo è uno dei tassi di proprietà di casa, della prima casa più alti al mondo e anche questo ovviamente è uno degli obiettivi dei nostri nemici, soprattutto di quelli interni, ma sono tutte notizie positive che dovrebbero farci capire che noi siamo in grado di affrontare i nostri nemici e affrontare anche un periodo di tempesta dopo il quale però ci sarebbe una rinascita di questo paese. Perfetto, Gilberto siamo riusciti a chiudere con delle note positive, quindi puntiamo sulle nostre forze, sulle nostre qualità, le nostre potenzialità che sono altissime. Ci temo chiudere comunque questo pur dando tutto lo spazio che abbiamo dato a queste disamine che comunque sono molto negative come abbiamo visto. Caro Gilberto, siamo in chiusura, io ti auguro buon Natale, si può ancora dire, non è discriminante verso altre religioni, verso altre etnie, si può ancora dire dire, no? E anche se non si potesse dire, noi ce lo diciamo, anzi ce lo diciamo con ancora più convinzione. Buon Natale ovviamente anche a te e ai tuoi cari, Carlo, e ovviamente buon Natale e buone feste a tutti i nostri spettatori. Ecco che però per gli auguri del 2023 aspettiamo perché ci vedremo la settimana prossima e quindi intanto appunto allora buon Natale a te Gilberto, grazie. Grazie a te. Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.